Novità assoluta per la prima volta nella storia dell'MC Pop Contest ma anche in generale per il panorama della danza abbiamo un contest dedicato a Hills 27esima edizione dell'MC su questo palco questa sera ci saranno tre crew che si sfideranno per la categoria Hills. Io direi di fare un grande applauso per le crew che hanno deciso di cimentarsi in questa sfida e andiamo insieme a scoprire chi sono le giurate di questa sera. Lei si avvicina alla danza all'età di tre anni poi non l'ha più lasciata e ha fatto di quest'amore la propria professione. Ha partecipato a diversi programmi stasera tutto è possibile Wind Music Award ballerina e cantante nel musical Jesus Christ Superstar performer nei videoclip di Laura Pausini e Giovanotti questa sera con noi Nicole Marin Nel suo lavoro coreografico unisce la sua passione per la danza all'inclinazione creativa della fashion stylist lavora come coreografa e ballerina del collettivo modulo project è appena rientrata ad Alcatar come assistente nelle coreografie della cerimonia di apertura ballerina e coreografa delle ultime edizioni di X Factor questa sera in giuria per la categoria Hills Manuela Saccardi lei si è diplomata al Broadway Dance Center di New York come migliore allieva lavora a Los Angeles come performer partecipa come giurata a contest in tutto il mondo Dolores lo dico posso dire la mia frase preferita lei è the iconic house Westmark iconic of the house of ninja lei è Dolores Dolores io mi emoziono quando devo leggere il tuo titolo proprio allora facciamo un applauso alla giuria perché anche voi per la storia delle MC è la prima volta che dovete giudicare la categoria ma l'applauso più grande lo riserviamo alle crew che saliranno su questo palco la prima in gara viene da pianezza loro sono luci di venere l'azione in Grazie a tutti 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 Grazie a tutti